Presidente Carella, un'altra edizione del Cogno che va in archivio, un altro grande successo. Esatto, è 37, gli anni passano, passano per tutti ma leggino c'è sempre. Io purtroppo vedo una realtà in questo calcio odierno che fanno una politica per conto mio, che vivono alla giornata, mentre invece per dare continuità a una società bisogna fare i passi lunghi come la gamba e stare con i piedi per terra e fare un qualcosa per questi ragazzi per levarli di mezzo alla strada. Cosa rappresenta per il Leggino un torneo come il Cogno? Il torneo come il Cogno per noi è il nostro fiore all'occhiello per il semplice fatto che è uno dei tornei più vecchi della regione, penso, dove raggruppiamo 50, 60, 70 squadre che si danno vita, una volta addirittura due mesi durava questo torneo. Ora o per i mondiali o per gli europei abbiamo ridotto un pochettino le giornate, però è sempre un torneo ambito da molte società e abbiamo molte adesioni e quindi questo ci fa piacere continuare ad andare avanti. La presenza di Stefano del Sciarau è da lietare l'evento? Quella è la ciliegina sulla torta. Stefano è un grande personaggio, un ragazzo che è cresciuto nelle nostre file, non si è dimenticato mai di noi come noi non si siamo dimenticati mai di lui. E quindi è un coronamento di questo torneo che per i ragazzi che vedono realizzarsi e che si può realizzare anche per loro quel sogno che un giorno cullava anche i Sciaravi e che oggi ci è arrivato. Chiudiamo con uno sguardo alla prima squadra, c'è stato un cambio, è già annunciato la guida tecnica che stagione aspetterà l'Egino. Il cambio è stato un passo indietro del nostro allenatore Tobia che ha preferito dare il passo e dedicarsi a 360 gradi al settore giovanile e quindi penso che il settore giovanile ne porterà un gran vantaggio. Noi abbiamo puntato su una soluzione interna che è Davide Girgenti, un ragazzo che ha fatto sempre del professionismo, un ragazzo che conosce l'ambiente, un ragazzo che conosce i giocatori, quindi penso che non sia un grosso trauma e penso che riusciremo a far bene anche lì.